Nuova battaglia sulla piazza virtuale di Facebook. Da un lato l'europarlamentare Salvatore Iacolino e dall'altro l'imprenditore agrigentino Salvatore Moncada. Al centro dello scontro la firma del contratto tra Marco Zambuto e il re dell'eolico per la ristrutturazione della porta dei saccaioli. Una stipula che non va giù a Iacolino, che attacca duramente Moncada. Abbiamo tassi di disoccupazione altissimi, afferma Salvatore Iacolino. E in tutto questo Marco Zambuto firma un contratto con un imprenditore agrigentino. Lo stesso che ha esonerato 50 persone, ossia 50 famiglie. Palese l'attacco a Moncada, che non ha tardato a rispondere tramite la sua pagina Facebook, lanciando velatamente una provocazione. Non ho mai visto Iacolino difendere i miei dipendenti, scrive Moncada. Anzi, sempre assente. Vorrei sapere una sola cosa. Che cosa ha fatto questo signore per questa città? Potrebbe iniziare ad aiutarli, propone l'imprenditore, devolvendo la metà del suo piccolo stipendio da privilegiato. Io la integro per l'altro 50%. Così diamo un aiuto a molte famiglie. Iacolino non le manta certo a dire. A distanza di poche ore arriva la replica, sempre sulla piattaforma interattiva del noto social network. Nei giorni scorsi, si legge in una parte del post di Iacolino, Moncada avrebbe mandato a casa oltre 100 padri di famiglia, gli stessi ai quali aveva generosamente offerto, prima di Natale, una lauta, cena e musica per augurare un buon 2012. Davvero incredibile. Ma non gli mancano i soldi per aiutare e finanziare il comune di Agrigento. E su questo tafferuglia interviene Franco Fasulo, il primo a dare l'input, aprendo una pagina su Facebook intitolata Salviamo la Porta Saccaioli, che in brevissimo tempo ha raggiunto migliaia di adesioni. Si schiera con l'imprenditore Moncada. Le sue parole, si legge in una lettera indirizzata da Fasulo a Iacolino, sminuiscono l'impegno civile di chi, come me, Salvatore Moncada, crede che i beni monumentali siano essenziali al nostro essere cittadini. Se si avesse avuto più cura delle nostre ricchezze architettoniche in passato, ha scritto Fasulo, Agrigento potrebbe annoverare tra le sue fonti di reddito la voce turismo.